Vincenzo Lattuchella, presidente Avis comunale di Pescara, nuova sede inaugurata, sede nuovissima, bella, confortevole. Sì, una nuova sede di quasi 500 metri quadrati che ospita sia la parte associativa dell'Avis e sia il centro di raccolta sangue, perché non dimentichiamo che noi raccogliamo sangue e su questa struttura faremo anche raccolta del plasma. Una nuova sede moderna, confortevole e attenta anche a quelle che sono ormai le tematiche che trattiamo, quelle anche ecologiche, perciò utilizzeremo energia ecosostenibile, materiali riciclabili, raccolta differenziata come già facciamo e cerchiamo anche di risparmiare su carta e plastica. Facciamo ogni anno sia un incontro, un'assemblea annuale di tutti i soci per dare un resoconto di quella che è l'attività associativa e poi ospiteremo anche altre realtà, altre associazioni con cui collaboriamo a titolo gratuito per far venire nuova gente, per farci conoscere un po' di più, perché molti magari non conoscono ancora la realtà importante come Avis, una realtà che ormai sul territorio pescarese, quest'anno festeggiamo appunto i 60 anni di attività sul territorio di Pescara. Ecco, in questi 60 anni, ad oggi quanti numeri conta l'Avis Comunale di Pescara allora? Allora, l'Avis di Pescara negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale, a differenza di tante altre realtà che magari sono andate a perdersi. Noi abbiamo al 2019, che si è concluso l'anno, quasi 1800 donatori con quasi 3000 donazioni. Ovviamente per noi è un numero importante perché nel corso degli ultimi anni siamo andati sempre via via crescendo, però è un numero che è destinato e speriamo che possa aumentare sempre di più anche in vista di questa nuova struttura.